Di sicuro un partito democratico, quello abruzzese, unitario, che ha manifestato tanta unità in questi anni, ha ricostruito molto, ha rinnovato molto e poi una battaglia puntuale sui grandi temi che riguardano la nostra regione. In particolar modo, da ultimo e negli ultimi mesi, sulle questioni relative allo shock energetico, al caro Bollette e a questa incapacità della Giunta Marsiglio di dare risposte. Prima si attaccavano a tutto, al Governo nazionale che appunto non vedeva Fratelli d'Italia protagonista, oggi l'Europa, ma noi contestiamo che proprio nel momento in cui il Governo nazionale è a guida Fratelli d'Italia, le risposte debbono essere finalmente chiare e gli impegni presi e assunti in campagna elettorale mantenuti. Da questo punto di vista non ci siamo, ma il profilo del Partito Democratico è stato netto. Noi vogliamo risposte sul caro energia per quanto riguarda le imprese e le famiglie.